Ciao amici, ho una bellissima notizia da darvi. Oh, finalmente tu e Squaletto con volate a giuste nozze? Ma no, cosa dici? Mica mi serve un matrimonio riparatore con Squaletto? Allora hai vinto alla lotteria, dici quanto? No, molto meglio! Oddio, una buona vincita? Non mi dispiacerebbe. Comunque non è quello. Ma allora cosa? Non tenermi sulle spine, non sono un facchiro. La buona notizia è che vado in tv, in televisione. Capirai, oggi con il digitale terrestre non è mica una notizia andare in tv. Anche Squaletto è andato su telepinne. Invece sì, la tv è sempre la tv. Comunque questa volta vado su un canalone, Rai 1. Allora, segnatevi la data così potete seguirmi in televisione o in streaming sul sito della Rai. Vi potrete vedere in diretta su Rai 1 il giorno mercoledì 19 giugno, dalle 10 e mezza alle 11 e mezza, in quella fascia oraria. Mi hanno invitato alla trasmissione Tutto Chiaro, il nuovo appuntamento estivo della mattina di Rai 1, condotto dalla biondissima Monica Marangoni. Qualche giorno fa ero a Milano, nel mio centro, lo spazio Solo Salute, e mio collaboratore mi passa una telefonata. Simona, c'è la Rai chi ti cerca! Davvero? Sì, era un autore della trasmissione, un ragazzo simpaticissimo. Mi ha invitato come ospite, naturopata esperta di rimedi naturali. Eh eh eh, evidentemente il mio messaggio di vita sana sta arrivando ai piani alti. Allora vai in tv a fare big money? Ma che big money? Ehi, non sono mica Barbara D'Urso, vado a dare il mio contributo come sto facendo da tanti anni qui sul canale. Diffondo le strategie di salute naturale nelle cose pratiche di ogni giorno, proprio come questa nuova trasmissione su Rai 1. Bene, detto questo, save the date, segnatevi la data, mettete un post-it sullo specchio, un promemoria nel calendario, una sveglia sul telefonino. Insomma, seguite la mia diretta su Rai 1, mercoledì 19 giugno dalle 10.30 alle 11.30. E nel frattempo, fatemi gli auguri perché sono emozionata. Speriamo bene. Ciao! Ciao, Pasqualetto. Venuta bene? E me ne vanto!